Ancora qualche giorno d'attesa prima della partenza ufficiale di questa stagione a Bari con la Supercoppa. Dinamo Work in Progress, oggi presentato l'ultimo tassello di questo roster 2019-2020, Jamel McLean. Il punto è la situazione che vogliamo fare con l'Hancorman di Dinamo TV e Polo Citrini. Tanti straordinari, tanti chilometri, però buone sensazioni. Sì, buonissime sensazioni da parte della squadra perché innanzitutto hanno giocato anche in condizioni rimaneggiate, però hanno dimostrato già di avere la giusta atteggiamento, la giusta chimica. La società ha fatto degli sforzi importanti quest'anno perché sia con il binobio tra Federico e Poz, ma soprattutto con la società ha potuto confermare giocatori come Pierre, ha potuto prendere giocatori come Bilan, come Ivans, come lo stesso Michele Vitali e poi ha preso dietro lo zoccolo duro degli italiani che hanno già creato chimica, che sono fondamentali per far sì che i nuovi si integrano al meglio. Penso che anche un ragazzo come Bucarelli, visto nell'ultimo torneo, possa fare veramente molto bene e dare dei minuti importanti. Il capitano ha dimostrato di essere sempre una persona di assoluto esempio. è la ciliegina sulla torta, è quel Jamel McLean che con Curtis Gerrers a Milano aveva fatto anche molto bene, è stato all'Olimpia Costa, ha giocato in Eurolega, quindi è un giocatore che sicuramente potrà portare ulteriore peso sotto canestro dove la Dinamo già ha dei giocatori molto interessanti. In una stagione che si preannuncia comunque molto livellata verso l'alto, mi pare di poter dire senza termine smentita che su 17 squadre, almeno 10, possono ambire a traguardi importanti. Paolo? 10 forse si è stato anche stretto perché è veramente un campionato dove Bologna ha speso 15-16 milioni di budget, Milano ha fatto la squadra forse più forte di sempre perché con l'arrivo di Stavropulos e con Messina hanno veramente indirizzato il mercato sui giocatori NBA, sui giocatori di altissimo livello europeo. Penso a Bologna, penso a Brindisi che è una buonissima squadra anche se avrà le coppe, penso a Brescia che ha fatto una buona squadra, penso a Trento, penso anche a squadra come Reggio Emilia che secondo me è la squadra migliore che hanno costruito dopo la perdita della finale Scudetto con Buscaglia in panchina, molto interessanti, non puoi sottovalutare nessuno, ci sono le Lombardi. Insomma è un campionato assolutamente livellato verso l'alto come hai detto tu, Venezia proverà a difendere il titolo perché ha cambiato poco, ha messo solo dentro Fillò e Udano, gli altri però sono lì pronti in Milano a vincere tutto, a parte la Supercopa dove non c'è, però alla fine veramente sarà una lotta per entrare Final 8 e Playoff davvero durissima. E' dimenticata un po' di storia, Treviso per esempio e Fortitudo. Vabbè quello fa parte della grande Serie A che ritorna, sono contentissimo che tornino Menetti, innanzitutto Logan che è un grandissimo nostro giocatore che potrà ricevere un grandissimo applauso qui a Sassari, c'è la Fortitudo di Roch Stipcevic, c'è la Roma di Piero Bucchi, forse non sono squadre attrezzate, forse la più attrezzata in questo momento è Treviso per poter ambire i playoff, ho dimenticato per esempio Trieste che è comunque un'altra grande squadra, insomma anche la Pesaro dei giovani allenata da Perego può essere interessante, non ci sono squadre assolutamente da sottovalutare, ci sono le coppe di mezzo, quindi ci sono squadre che giocano una volta alla settimana, squadre che hanno il doppio impegno, quindi è un bellissimo campionato e staremo a vedere già dalla Supercoppa, penso si può vedere già una grande battaglia. Possiamo chiudere con LBA, spettacolo assicurato quest'anno? Eh, spettacolo assicurato in LBA, direi spettacolo assicurato in Champions League, perché anche lì si alza il livello, si alza la competizione, è organizzata benissimo, l'anno scorso l'ha vinta a Bologna e quindi speriamo che le italiane possano fare veramente bene. Tutte le news naturalmente e su Dinamo TV? Sempre, sempre su Dinamo TV, noi cerchiamo di seguire, di rimanere al livello che abbiamo raggiunto, dando sempre la possibilità al tifoso di poter farsi un'opinione un po' su tutto quello che è il mondo Dinamo, senza entrare nella scelta del tifoso di poter avere più cose da poter scegliere.